Ciao a tutti, guerriere, guerriere, sailor. Io sono Ferdinando e sono un gran fan di sailor. Benvenuti in questo nuovo video, che è un video bonus che non doveva esserci, ma quando ho visto questo non potevo. Per me è 12 ottobre 2022, anzi, no per me, per voi scusatemi, perché io sono del passato, il Ferdinando del 3 ottobre 2022. Per me è 3, voi lo vedrete il 12 ottobre, io lo sto registrando il 3 ottobre alle 7 di sera. Casualmente mi trovo da solo, fino a domani sarò da solo in questa casa, quindi ne ho approfittato di registrare. Mia madre non c'è, sono più libero. Il video era un video bonus, io stavo partendo il 3 agosto, quindi due mesi fa sono uscite. Oggi apriamo questo unboxing Disney, quindi di nuovo carte da gioco, come l'avete visto il video precedente. Le carte napoletane di Blasco Pisapia, uscite nel novembre 2021, in due uscite, e anche queste sono in due uscite. Allora, io sono appena tornato, reduce, da un giletto, un'edicola, per trovare quella test di marketing delle fabbri editori, dell'ex fabbri editori, su Crimi Mami, perché a me mi interessa solo Crimi Mami, non mi... Se avevo la possibilità, prendevo anche Magica Emi, ma Iu e due note, mi sembra che si chiama Icaru, o Megumi, scusatemi, non mi interessa. Crimi Mami invece sì, che sono molto legato a Crimi Mami, visti che io 37 anni fa sono nato, e in Italia è appena era arrivato. Io penso che di tutte le maghezze degli anni 80, Crimi Mami sia più legato, infatti è stato il mio primo manga cartaceo ad avere. Chiuso a parentesi, questo è un video bonus che non ci doveva essere. Due mesi fa, Topolino, in occasione dell'estate, sono uscite le carte francesi, anzi le carte d'autore, rosse e nere, di Silvia Ziche. Io già ve lo dico, anche a voi ragazzi del Fumetto Line, buon Fabio, queste saranno le mie prime uniche carte d'autore, perché non ho spazio per mettere, vabbè, perché c'era lei, vedete? Allora, costano, costavano, 6,90, scusatemi, ballate, 6,90. Questa è la seconda uscita, questa è la prima uscita, dietro si presenta così, sono ancora in ceppollonate. Mi piace molto Pippo, Goffi e Mickey Mouse che guardano le stelle, questo lo apprezzo, questa è la uscita di 3 agosto, era questo il 10, quindi questa sarebbe già in San Lorenzo, dovevano mettere questo, invece papirina e papirina che partono per le vacanze. Allora, questo è il numero 3480 e questo è il 3481, spero di aver detto giusto. La seconda uscita è così, che ci fa un riferimento al mazzo rosso. Che cosa? Io le ho prese tutte e due, perché la custodia di Amelia è molto bella, e di Minnie, quindi erano delle custodie diverse. Praticamente cambia solo il dorso, le figure, le carte sono uguali. Un mazzo di queste le terrò chiusi in libreria, e un altro mazzo di carte, specifico, un mazzo di carte, le userò per fare più in là in futuro, o sul canale, o su Instagram, o su TikTok, i tarocchi interattivi. Sapete che io so leggere anche le carte francesi, quindi... Allora, ora prendiamo la prima uscita. Eccola qui, si presenta così, con questo sfondo azzurro. Allora, io me li conservo queste, carte d'autore, infatti quelle di Silvia Ziche. Dopo due mesi le apro, infatti io aspettavo. Chiedo scusa per questo ritardo, ma mia madre ha avuto il Covid. Il problema è che... Il problema è che... Qui la situazione è questa. Allora, qui c'è riuscito... Una t-shirt con la cosa di Topolino. Vediamo un attimo la storia. Vedete com'è, tutto dedicato a Topolino. Topolino è il pianeta del Ramingo. Topolino è l'incubo dell'isola Corallo. Episodio 3, penso sia l'episodio 4. Di là, Paperinicche e la Torre d'Oro. Zio Paperone è la vacanza di inconvenienza. Va bene, le copertine non so di chi è, vedete? Qui ci dice le carte... Qui era la seconda uscita delle carte. Copertine è Mastra... Corrado Mastrantuono. Penso di aver pronunciato il... Andrea Cegni. E' molto carino. Allora... Qui invece la situazione è così. Vedete? A differenza delle carte napolitane che erano uscite... Di Blasco... Ok... Sì, c'è colla. C'è colla e quindi... Caccia al logo. Aspettate che tolgo questa colla... Ok... Bellissimo. Qui invece ci fa vedere tutte le carte. Ora le apriamo, eh. E' un po' rotto. Qui, vabbè, fa niente. Ok. Le carte hanno... Penso... Questa è colla. Faccio una cosa. Torno subito, vai. Allora, ragazzi. Eccomi qui. Allora... Il mazzo rosso si presenta così. Paperone... E minni. Chiara aveva fatto un video dove apriva questa. Chiaraccio, ciao. E mi piace molto quanto sbaglia, e l'avevo detto anche nell'altro video, sbaglia a pronunciare Amelia, chiamandola Crudelia. Io... Io... Lo guardo, quel pezzo, Chiara... Lo guardo molto e mi faccio tante risate perché mi porti allegria in questo periodo che sto avendo dei problemi personali. Poi vi lo racconterò. Ora io tolgo, ovviamente, la plastica dalle carte francesi. E arrivo subito. Eccomi qui, ragazzi. La plastica... Ecco qui, nonno Bassotto, che di là nelle carte napoletane uscivano i Bassotti 8x8, come Asso di Picche, Asso di Fiori, Macchia Nera, che di là era nelle carte napoletane 10 di Spade, Asso di Quadri, Archimede Pitagorico e Asso di Cuore. L'Archimede è la prima volta che lo ce l'ho nelle carte da gioco e Eta Beta, che nei 3 di bastone nelle carte napoletane è la seconda volta e Asso di Cuore. Devo dire la verità, Silvia Ziche gli assi li poteva fare come era questi qui, così. Non so perché è stata ricaduta la scelta del nonno Bassotto, ma è meglio così, perché i Bassotti ce l'ho nelle carte napoletane e il nonno ce l'ho qui, Macchia Nera e Eta Beta, che compaiono di là e di qua. Allora, poi io... L'altro mazzo è uguale, cambia solo questo. Di là è nero e qui è rosso. Non ho fatto vedere, dove l'ho visto, è qui il sudorso. Abbiamo Mini, Paperone e Paperina. Aspettate, Paperino, Paperone, Topolino e Paperino. Quindi, sembrano le carte di Santa Tale. Io ho provato su internet a prendere, tanto dopo li devo mettere in ordine. Vedete, sono semplicissime. Qui non so, con le carte francesi questo simbolo vuol dire un gioco, non lo so. Io non sto giocando neanche a poker, a scala 40, pensate un po' solo con le carte napoletane. Vedete, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Eccoli qui, i jolly. Allora. Questo lo mettiamo qui. Aspettate, lo mettiamo qui. Allora. Grazie agli amici di Fumetto Online e penso anche Bonfabio, ho scoperto chi è lui. Filos Grancia e sono andata a fare delle ricerche su di lui. È un amico che aiuta Brigitta McBridge. È un amico di Brigitta. Per, non so, per le sue, non so, per qualcosa al lato economico. Io so che lui ha una famiglia, una famiglia benestante, penso. No a Paperopoli, ma una cittadina vicina. Lui invece, che sono delle novità, lui è Sgrinfia, che è un complice di Macchia Nera. Io, di questi personaggi, non avevo neppure l'idea dell'esistenza, diciamo così. Filo è Jack di Picca. Sgrinfia è Jack di Fiori. E, aspettate. Poi c'è Paperino, Jack di Quadri. Pippo, Goffi, Jack di Cuore. E poi, Amelia. Devo dire la verità, Silvia Zica è quella fatta un po' più cattiva. Mi piace questi colori. Penso sia Perotta che l'aveva fatto. Comunque, i colori che sono stati messi a Amelia è questa faccia diabolica. Meglio che, cioè, Pippo l'abbiamo visto. Di là, nelle carte napoletane, anche Paperino e Paperone. E poi, no, Paperone è l'ultimo. E anche Trudi. Amelia, quando Chiara, Chiara Accio, dice Crudelia, Amelia, perché si confonte, lì mi piace molto. Mi prendete per pazzo, lo so. Ma, ehm, mi mette allegria quando Chiara fa quella risata. Io non sto vivendo un bel periodo, e quindi questo mi aiuta un po'. Trudi, molto bellina. A differenza della Trudi, violastra, nelle carte napoletane. Paperina. Paperina è molto meglio qui, che, ehm, come Pisapia l'aveva messa di là, nelle carte napoletane. E Minni. Che, appunto, queste quattro sono uscite di là, nel senso, di là, nelle carte napoletane. Anche Rockerdark e Gamba di Legno, che sono i Re di Picche, Rockerdark e Re di Fiori, Gamba di Legno. Minni è Regina di Cuore, e Paperina è Regina di Quadri. Trudi è Regina di Fiori. Paperone è Re di Quadri, Topolino è Re di Cuore. Paperoga, a differenza delle carte napoletane, devo dire la verità, è stato fatto meglio, è stato considerato, perché Pisapia l'aveva fatto come il manico del vaso del tre di coppe. E Newton, questa è una novità, zio e nipote, nelle carte. E, appunto, Silvia Zica è colore di Mario Perotta. Mario Perotta lo seguo su Instagram, e a volte mette queste qui. Allora, queste sono le primi mazze di carte uscite il 3 agosto. Ora, passiamo all'ultima uscita, che si presenta così, ma la differenza che sono... Queste le rimarrò chiuse, queste carte, perché sono le stesse. Quindi cambiano, poi ve le faccio vedere. Ok, ok, qui ci davano anche il regalo. Ah, ok, è tutto attaccato. Ok, se non rompiamo. Un'ultrano dell'Adidas, va bene. Ah, ok, qui già si è rotto la plastica. Le copertine sono il terzo, questa è la prossima uscita. Le copertine sono di Impolito e Perotta, i colori. E infatti l'avevo visto da Perotta su Instagram, questa ho, nelle sue Instagram Stories. Io seguo anche i disegnatori del Topolino. Paperini in vacanza con Gino. Topolini e Ferragosta 3. Paperini e l'amico scomparso. Seguire attentamente l'istruzione Paperoga. Paperini che la torre d'oro. Incredibile segreto. Vabbè, qui ci siamo. Questo è così. Come potete vedere qui c'è Trudi e Paperone. È da collezionare. Trova le differenze, è tipo un gioco. Qui invece è già rotto. Meno male. Io ho le carte, quelle lì. Queste qui, qui c'è Gamba di Legno e Amelia. Magica de Spell. Ora non mi ricordo Gamba di Legno, come si chiama. In inglese, Magica... Amelia è più facile, Magica de Spell. Poi mi sembra il fratello. Generina. Ok, qui... Abbiamo fatto più secondo. Qui abbiamo i cattivi. I cattivi in modo di dire. Trudi, Grinfia, Rocker Duck e Filo, Sgancia. Qui è molto bello. Questo mi sembra più... Qui abbiamo... Topolini e Paperino. Mickey Mouse, Donald Duck. Sarà? Eta Beta, scusatemi. Paperone, scusatemi. E questo è Paperino. Qui, invece... Eh, si è venuto un po' lungo. Qui cambia solo questo. Ma i disegni sono uguali. Come potete vedere. Io le terrò chiuso. Perché è lo stesso. Vedete? In libreria metterò accanto le carte napoletane. Queste. Queste le metterò accanto alla mini... Quella della Kinder. Allora, ragazzi. Voi avete... Comprato queste uscite di Topolino. Molto bello anche qui. Tipo i cuori. E... Non so. Eh sì, 17 minuti. Quando si tratta delle unboxing Disney, io... Mi metto a perdere tempo. Mi spiace. Se questo video bonus è lungo. Con questo video bonus si conclude il palinzesto estivo. Perché da metà ottobre ritornerò con un primo video del palinzesto autunnale. Scusatemi che le persone vanno via. Un confronto cartaceo che riguarda Sailor Moon. Così si inizia il mese di ottobre e i suoi video autunnali. Da Facebook a Telegram, i miei social network, Sailor Moon fans affiliati ad Amazon. Il mio secondo canale, Iran Turbo Boys. Tutte qui. Io con le unboxing Disney per ora ho finito. I ragazzi del team da From World Matter Channel, Alt Attack, Chiaraccio, Greco e tutti gli altri li trovate nell'info box. Io sto aspettando quello che dovrebbe uscire a novembre. Il topolino con il puzzle dei paperi e dei topi insieme che cantano vicino a un albero di Natale della Clementoni. Io ho rinunciato. Anzi, ho visto bene gli scacchi. Non mi piacciono. Ho preferito aspettare quello lì, l'uscita, che hanno detto che è novembre. Quindi, molto presto vedrete. Disavventura. Nei video autunnali vedrete anche un unboxing manga, di un anime manga degli anni 90. Che io ho il quarto volume nel negozio. C'è di questo manga. Però il negozio ora sta in ferie, fino a 6 ottobre. Quindi devo recuperare l'ultimo volume del manga. Dopo il 6 ottobre. Noi ci vediamo al prossimo video. Chiedo scusa per questo video troppo lungo. Ciao!